Buongiorno a tutti, finalmente il try and all di coppia che tutti stavate aspettando. Mi riferisco ovviamente alla diabolica coppia di Quarto Giaro. Il video che andremo a visionare e commentare porta per titolo try and all di coppia appunto by New Chic, questa azienda che manda loro complementi di arredo e di abbigliamento a titolo puramente gratuito. Con l'unico onere è quello di mostrare i capi e i complementi d'arredo ordinati nel loro video e quindi recensirli praticamente. Quindi passiamo alla visione di questa magnificenza di video e vediamo un po' cosa raccontano, cosa hanno combinato stavolta. Bene, il video inizia con Davide in primo piano con il suo solito stacchetto ovviamente sempre molto scordinato tra il parlato e il movimento. Ciao ragazzi, ciao ragazzi, top! Però ho noto un elemento nuovo nella stanza, alle spalle di Davide si scorge ampiamente un divano di colore rosso-porpora. E sul divano, impossibile non notarla, c'è seduta comodamente Ellison, la loro figlioletta. Poi ci sono anche due unicorni, uno azzurro, uno rosa e tutta una valanga di pupazzetti accatastati al lato del divano. Cioè praticamente né più né meno il solito casino di sempre. Ma comunque, lui parte con gli acquisti fatti da lui e per lui, cioè la parte maschile del traionole. Come primo articolo, presenta una cintura. Ora, non è tanto la meraviglia che lui abbia comprato una cintura, ma il fatto che la usi. Perché comunque Davide ha una pancia abbastanza importante, quindi non oso immaginare che misura l'abbia mai potuta prendere questa cintura. Ma comunque andiamo avanti e rallegriamoci per le informazioni che ci sta fornendo Davide. Davide mostra questa cintura e praticamente si aspetta che la durata di questa cintura sia similare a quella che ha da dieci anni. Ora, io attraverso lo schermo posso ben notare che è una cintura puramente fatta di cartone. Quindi non vorrei rovinargli tutto l'entusiasmo, ma credo che dieci anni non gli durerà questa cintura. Però siamo in periodo di festa, non gli diciamo niente, lasciamoglielo credere. Finito tutto il dettaglio della cintura, delle cuciture, del colore, della morbidezza e della robustezza, si passa alla fibbia di questa cintura. È una fibbia altamente particolare a sua detta perché mostra delle levette misteriose e sconosciute sulla parte retrostante di questa fibbia. Bene, ora, tra i due praticamente nasce una sorta di siparietto, anche perché nessuno dei due sa il funzionamento di queste levette retrostanti alla fibbia. Allora, praticamente in questa parte del video ci sono tipo 827 milioni di tagli, perché è evidente che nessuno dei due sapeva come funzionava, avranno fatto vari tentativi. Poi alla fine ha detto, ma sì, taglieremo tutti i pezzi, delle prove non riuscite e ame. Ad un certo punto poi finalmente, eccoci, siamo arrivati, hanno capito il funzionamento e lui ci sta tipo un quarto d'ora a infilare la cintura nella fibbia, a bloccarla, poi a sfilarla, a farci un tipo un giochetto di infila e sfila, tac e tac e tac e tac e tac. Praticamente ci ha fatto due palline, va bene. Commento finale sulla cintura, è davvero una bella cintura, perché quando si blocca fa tac, praticamente allora è una cosa professionale direi, sì. Questo è il termine giusto, una cintura professionale. Bene, finito il siparietto cintura, si passa al secondo articolo, e cioè ne ha presi più di uno, e sarebbero degli orologi, degli orologi incartati praticamente nella plastica, nel cellofan e nella plastica mille bolle, quella antiurto. E sono degli orologi veramente orribili, tipo quelli che si portavano negli anni, i primi anni 90, quelli grossi con quel mamma. Comunque, ora li vedremo nel dettaglio. Iniziano a scartare il primo, praticamente si vede attraverso la busta trasparente, e già è qualcosa di cafonissimo, ma vabbè, diavogli fiducia, magari alle volte sai com'è, e invece no. Comunque, scartando, vi esce fuori anche il libretto delle istruzioni. Lui lo apre un po' lo sfoglia, fa un po' l'intellettuale, a un certo punto dice, no, non si capisce niente perché è in cinese. Quindi, chi lo sa il cinese? Lei risponde da voce fuori campo, dice, vedi che magari c'è anche in inglese, e io direi, e caschiamo dalla padella alla brace. Lui, tutto soddisfatto, mostra questo orologio, mette il quadrante di questo orologio a favore di camera, è un qualcosa di orribile, gigantesco e cafonissimo. Di quelli che si trovano sulle bancarelle, la domenica mattina, da i rivenditori di colore, che si mettono così fittizi, qualcosa di similare, siamo lì. Lei nel frattempo sta continuando a scartare nel libretto di istruzione, a vedere se magari c'è in lingua inglese, o qualche lingua magari che lei parla, tipo il francese, il tedesco, lo spagnolo, ma anche no, è ovviamente scherzo, questi non sanno manco l'italiano, vabbè. Bene, dopo averlo rigirato un po' da tutte le parti, praticamente si decide ad indossare questo orologio, ed effettivamente gli sta un po' largo. Lei, solita voce fuori campo, gli dice, non ti preoccupare, magari lo porti da qualcuno, da un'ingelleria, da un orologio, gli fai togliere due maglie, praticamente ti diventa della misura del tuo polso, ma io direi, ma non glielo portare in gialleria una cosa del genere, perché anche no, te lo buttano dietro la testa, dice, ma che non ci puoi. Lui continua comunque a mostrare questo orologio, avanti e indietro, avanti e indietro, in camera, a un certo punto lei dice, ma l'hai messo dritto l'orologio, lo stai facendo vedere tutto al contrario, allora lui se lo guarda e dice, no, no, l'ho messo dritto, no, un momento, no, l'ho messo al contrario, no, aspetta, l'ho messo dritto, cioè praticamente non lo sa manco lui se l'ha messo dritto, no, come fa a non capirlo, basta vedere i numeri, se sono al contrario, vabbè, ok, non ve la faccio lunga, ci sta un quarto d'ora per capire se l'ha messo dal lato giusto oppure no, a un certo punto dice, ah, ecco perché la chiusura era al contrario, poi no, ritratta subito, no, l'hai messo bene, l'ho capito perché non si chiude, boh, aspettiamo, vedi un po' come, come si svolge sta cosa, come, come evolve, ad un certo punto ha deposto le armi, ci sono altri 327 milioni di tagli nel video e lui dice, vabbè, comunque questa cosa è da studiare, cioè, c'è da studiare per vedere se l'orologio era al contrario o giusto, ma comunque è praticamente lo passa alla sua muogliettina che lo ripone, questo gioiellino, ah, le meraviglie non sono finite, allora, come avevo capito bene, allora, è più di un orologio e siamo passati all'orologio B, come lo definisce lui, un qualcosa di ancora peggio di quello precedente, però non voglio spoilerare, aspettiamo per la descrizione, oh, signore, lo mette a favore di camera, praticamente, ha un quadrante stranissimo, a forma di imbuto messo di profilo, cioè, nel senso, c'è la parte grande che riporta i numeri, i numeri normali, no, i numeri arabi, e l'altro quadrante, quello piccolo, non lo so, forse, non si capisce bene da qui, forse c'è i numeri romani, è come se fossero praticamente due orologi attaccati, però uno più grande, un altro più piccolo, di forma quadrangolare, con qualcosa di veramente cafone, tamarrissimo e importabile, ma lui dice che è bellissimo, perché lui ama questa tipologia di orologi, e la voce fuori campo, c'è la sua muodiettina, gli dice, eh ma amore, ma a questo punto dobbiamo prendere un qualcosa che contiene tutti questi bellissimi orologi, io direi sì, il cassonetto della spazzatura andrebbe perfetto, quindi sta praticamente facendo le prove, lo misura, lo toglie, lo rimette, lo stringe, lo allarga, ad un certo punto il davidone ci dice che questa tipologia di orologi li può portare solamente d'inverno, perché se li usa d'estate gli fa reazione sulla pelle, questo vale anche per gli orologi con il cinturino in oro e in argento, cioè è come se lui avesse questa tipologia di articoli, ci crede solo lui, molto molto bene, 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 il discorso orologio va avanti per un bel po', anche perché si inserisce spesso lei con la voce fuori campo, dove gli dice, sì però è un bell'orologio, è un orologio importante, eccetera, eccetera, ad un certo punto piglia una cosa nera enorme dalle sue spalle, e praticamente la mostra, sembra praticamente una pelliccia nera, vista così, però non è per lui, non temete, è per Chiara, mostrano questa lecitina precisale finta pelliccia presa nel reparto uomo, penso per le misure, cioè ma però voglio dire, ma quale uomo va in giro con una pelliccia nera e col cappuccio? Non lo so, scusate, non lo so, già così fa ridere, praticamente lui la mostra davanti, dietro, è comunque enorme sta cosa, perché la tiene tutta su, non si sta tutta nella camera, comunque, è una pellicciona nera, se lo passano un po' tra lui e lei, sto pelliccione nero ecologico, e lei a un certo punto dice, sì però comunque mi sta un po' piccolo, devo dimagrire un 10 kg, poi mi va proprio alla grande, sta pelliccia è una bomba, se lo stanno a lisciare, praticamente, sto pelo di sta pelliccia, lo buttano di qua, lo buttano di là, se lo passano tra lui e lei, ad un certo punto, il Davidone dice, l'ha visto mia madre, sta pelliccia, ha detto è obbrobrioso, proprio, ha detto è brutto da vedere, lei invece dice, è una cosa molto carina, e ci tengo a precisare, che non è una pelliccia vera, è una pelliccia ecologica, credo che non servisse la rettifica da parte sua, anche perché si vede benissimo, sembra un pecorone, non lo so, un pecorone nero, non lo so, passiamo, veloci, super veloci, al prossimo articolo, ha preso un maglione, invece no, non è un maglione, è una felpa, lui rettifica, è una felpa maglione, perché è morbida e lo tiene caldo, ora non so come ha capito che lo tiene caldo, dato che ce l'ha tra le mani e non addosso, quindi ci mette un bel po' anche per mostrare questa felpa maglione, quando a un certo punto su un fianco trova una cerniera, Davide si illumina, c'è una cerniera, ora andremo a vedere insieme, dice, se è una cerniera vera o di bellezza, un attimo di suspense, tira giù questa lampo, fittizia, e per sua felicità, per sua grande emozione, è una cerniera vera, che nasconde una tasca, ci infila la manina, se la vogliamo chiamare manina, praticamente è una tasca molto ristretta, lui dice, sì, ci si infila la mano, anche se è un po' scomoda, però vabbè, è vera, non è di bellezza, Dio che emozione, mi sono commossa anch'io, no raga, dice che adesso lascerà la clip, di questi due capi indossati, lui con la felpa maglione, è lei, con quella pellicciona ecologica, nera, ecco, aspettate un attimo, bene, ora la scena si apre con lui in piedi, nella stanza, con questa felpa maglione addosso, praticamente le maniche gli vanno bene, gli stanno anche pure un po' larghe, il cappuccio va bene, ma è assolutamente extraterente sulla pancia, perché lui ha una pancia enorme, tira anche dietro la schiena, perché è evidente, e lui dice, questa felpa va messa sopra il pigiama, ora, io non lo so, se loro si rendono conto, che le persone non fanno come fanno loro, che vanno in giro col pigiama, sia in casa che fuori, assolutamente lo tolgono, quando la mattina si alzano, mi sa che questi non hanno capito ancora, sta cosa qui, chi gliela va a spiegare? no, sta talmente stretta, che dietro gli misura tutte le manigliette dell'amore, se le vogliamo definire così, praticamente sembra che sotto quella felpa magliore, ci sia il salvagente, ma comunque lasciamo stare, a un certo punto, l'immagine si apre, con uno scimmione di spalle, no, non è uno scimmione di spalle, è chiara che sta mesurando la pelliccia nera, però ha tirato su anche il cappuccio, praticamente, cioè, a vederla così, sembra, sembra di rivedere quel film, King Kong, quando sta, su quel palazzo, come si chiama, su quel coso, non mi viene il nome, oddio, capisco più niente, mamma, ma non ci credo che lei ci va in giro così, no, no, ragazzi, va in giro così, spaventa i bambini, no, ma no, ragazzi, non ce la posso fare, lei si gira, si gira con sta belliccia, a un certo punto, dice, fa troppo gatto delle nevi, a me mi pare che fa tanto King Kong, o la sorella obbesa di Cita, non so, ragazzi, ma, ma Dio, ma uno si deve pure rendere conto, su via, una cosa del genere, non la mettere neanche io, e non sono ridotta come Chiara, però, ho un po' di buonsenso, cavolo, poi comunque cerca di, allacciarla, cioè, abbottonarla sul davanti, perché vedo che, c'ha lasola col bottone, ma, ma che ne vuoi, ma che vuoi abbottonare, manca tipo, 20 cm di pelliccia, di pelo, come lo vuoi chiamare, ma, ma, ma voglio dire, ma uno si rende conto, no, quando vede su un catalogo, su un sito, un capo di abbigliamento, un giupino, una pelliccia, in questo caso una pelliccia, cioè, dove rendere conto, una persona che è già così grossa, con una cosa del genere addosso, sembra due volte di più, e ora Chiara, non è un fuscello, ma sta cosa nera, poi col cappuccio, mamma mia mi è venuto un colpo mi stava partendo un polmone niente lei prova a chiuderla ma non c'è verso perché comunque è troppo non ci arriva praticamente allora lei a un certo punto depone le armi e dice vabbè tra 10 kg appena perdo altri 10 kg che comunque ci sto lavorando mi andrà perfetta cioè lavorando io ho visto gli ultimi mukbang loro ma lavorando a cosa che stanno a scofenarsi la qualunque bene a questo punto gli articoli sono esauriti lui ci tiene a precisare che sono tutte cose ricevute gratuitamente e dice magari sono contento se prendete spunto dai nostri acquisti ecco assolutamente uno già sa cosa non vuole assolutamente nel proprio guardaroba cioè le cose che comprano loro perché è indiscutibile che hanno un gusto pessimo e poi comunque non hanno il senso della misura perché una pelliccia del genere onestamente neanche una persona metà dei chili di chiara sarebbe bene con quella pellicciona lì assolutamente no però loro non hanno non hanno un buon gusto nel comprare nel vestire nello scegliere ovviamente perché portano sempre a casa il peggio del peggio del peggio niente praticamente lui dice che lascia tutti i link di questi bellissimi articoli comprati nell'infobox del video che comunque tutti separati che se qualcuno li volesse acquistare come hanno fatto loro praticamente clicca sul link ma secondo me non c'entra nessuno ho questa ho questa supposizione ma comunque una premonizione come la vogliamo definire beh ragazzi che dire mi lasciano ogni volta sempre più sconvolta questi due io spero a un certo punto che sia tutto fatto per ridere perché comunque una cosa così cioè vedere una persona della stazza di chiara con quel pelliccione nero in giro oppure col cappuccio su onestamente deve essere uno spettacolo orribile ovviamente ma comunque bene che dire ragazzi aggiungere altro a quello che ti è stato detto sarebbe superfluo comunque il video il loro video è finito e finisce anche il mio vi ringrazio per avermi prestato attenzione e vi do appuntamento al prossimo video che non si sa di cosa tratti un bacio a tutti e grazie